Massimo esperto di marketing e il libro di Joe Rock Santonastase. È giunto il momento di leggere un libro sul marketing. Non è un libro di testo asciutto o un manuale di marketing denso, ma una storia emozionante che ti insegnerà tutti i fondamenti del marketing moderno. Cosa imparerai da questo libro? Massimo esperto di marketing è scritto nel linguaggio di tutti i giorni per le persone che non hanno alcuna conoscenza precedente di marketing. Questo libro parla dell'imparare a fare marketing leggendo una storia, quindi non c'è nessun gergo complicato, solo consigli pratici. Segui il link in bio, ti avviserò appena sarà messo in vendita. Sarai uno dei primi ad averlo.